Marco Dellungo, io vedo una cosa che incendia la mia fantasia, consideri che Storre Gioemiglia non è una capitale del suo sport, siamo veramente lontani, c'è un po' di pallanuoto a Modena, c'è a Bologna, mi sono affacciato a Bologna una notte di Champions League, ma una partita dimenticabile, troppo facile, direi due anni fa con la Prorecco, mi hanno chiuso il canale un anno fa, quindi ho perso molti dei lavori fatti, ma mi sto rifacendo piano piano, anche perché Marco, devo dirle che stranamente, non stranamente, però nel rapporto importanza dello sport, carineria dei protagonisti, la pallanuoto è unica, la mia sfida è convincere Martina Miceli, che forse vide il video che feci di un suo time out per me incredibile, memorabile, cioè io stavo seguendo le final six, avevo qualche riga in ballo per il gazzettino, sa che Padova poi ha vinto Scudetti, insomma, credo fosse una Coppa Italia, beh sento una cosa memorabile, non ricordo tutto, ma una sola frase, cretina o no a un certo punto, probabilmente Martina si ricorda di me e ha detto, tu hai fatto il furbo con me, col cavolo che adesso ti rispondo, però Marco intanto grazie e le chiedo scusa, a me piace scazzare e purtroppo non sono bello come Gaia Cotto, che vedo che invece, no, Marco che ambiente è la pallanuoto? Consideri che io ho visto solo tre cose, quella sera contro una squadra maggiara, sono venuto alla presentazione del campionato, affacciandomi alla regione Liguria, comunque in ritardo, sono rimasto la notte degli amichevole pro alluvionati e poi aspetti, direi a una semifinale di Champions due anni fa della Prorecco che arrivò in finale, poi perse alla sciorba direi con l'Olimpia Cosma, la semifinale la vinse. Poi ho scritto tanto per il Gazzettino, gli europei, quelli del gol fantasma per il messaggero.it che divennero vari siti del gruppo, qualche intervista, una memorabile a Sandro Campagna alla vigilia dell'argento olimpico e sì, tanto però sa, da lontano è tutto un altro mondo. La televisione non ti porta, come dire, in sfogliatoio, a parte che nessuno arriva in sfogliatoio. Però Marco, che mondo è? Un mondo di gasati, di presuntuosi, di, non lo so, di superficiali, di leggeri, di, oppure quando giocate davvero c'è grande concentrazione? No, sicuramente innanzitutto buonasera a tutti. Il nostro mondo è un mondo dove chi si affaccia al mondo palanotistico è un mondo dove devi imparare il senso del sacrificio, perché questo sport, se non viene fatto con dedizione, non riesce a portarti dei risultati. Quindi quando c'è uno scontro fra due versari c'è dietro un enorme lavoro, ci sono dietro ore e ore di allenamenti, di sacrifici, di arrabbiature, di gioie, di dolori, quindi c'è tanto, veramente tanto dietro. Non è sicuramente un mondo dove è semplice affrontarlo, perché l'ambiente acquatico già non è semplice, però è gente che non molla mai, è gente che darebbe l'anima per portare a casa un risultato. Marco Dellungo, mi chiedo questo, ne parlavo in queste settimane, non sempre con i suoi colleghi, ma nessuno di voi è mai andato nella tv leggera o anche meno leggera, ma quella si diceva una volta quando ero bambino e lei forse non era ancora nato, nazional popolare. Intendo le grandi vetrine, quindi Chiambretti nelle sue varie sfaccettature, nei vari nomi che ha avuto, ma penso a Ballando con le stelle, penso a… oggi pomeriggio ho raccontato in lungo Andrea Vidotti, che è un manager di sportivi, non di pallanuoto, ma mi ha… io gli ho citato Ballando con le stelle, lui mi ha detto guarda ho portato vari personaggi a che tempo che fa, quindi Fabio Fazio e a un'altra trasmissione che ora mi sfugge, penso a quelli che è il calcio, penso insomma allo spettacolo, perché alla fine è quello che arriva più nelle case, nelle famiglie, nelle donne, eccetera, eccetera. Eppure la fisicità, l'impatto visivo di tanti pallanotisti è appunto di impatto, anche il versante non sportivo. Beh sì, sicuramente non abbiamo una visibilità che ci mette sul grande palcoscenico nazionale, ahimè purtroppo siamo uno sport di seconda categoria perché non abbiamo questo share televisivo come il calcio o come il basket o la pallavolo che fanno dei numeri nettamente più alti. Ovviamente nel tempo ci sono stati anche atleti della pallanuoto che hanno partecipato a programmi televisivi, per esempio a Mauriz Perez che ha fatto Ballando con le stelle. Ah sì, bravo, me lo dimenticavo di nuovo. Quindi c'è stato qualche sprazzo di pallanuoto nella televisione, però non è abbastanza per poter far sì che tutto il movimento si accresca. Presto infatti Marco racconterò a Mister Mondo, Francesco Di Fulvio, anzi sono partito col papà e racconterò anche i due fratelli. Ecco, devo dirle che negli ultimi anni ho alleggerito un attimo l'attenzione, però ha fatto ad esempio una bella apertura di pagina, seconda pagina di sport quando venne premiato il giornale, a firma Sergio Arcobelli, però io stesso non saprei riconoscere il viso di Francesco perché non l'ho mai visto dal vivo. Le inquadrature, lei sa, con la pallanuoto c'è la calottina, poi se io non devo scrivere abbasso di molto l'attenzione e la tensione. Ho visto, le dicevo, quell'unica partita vera alla sciorba, beh, era la mia prima volta a Bordovasca ed eravamo, no a Bordovasca, in tribuna stampa e onestamente ci ho capito poco, cioè vista la tv è un altro sport, è più facile lì, eravamo quasi a pelo d'acqua, poi c'era il divieto di fare video e quindi insomma a me dispiaceva parecchio, però come dire, il più grande personaggio, lei pensi la differenza fra Cristiano Ronaldo e Francesco Di Fulvio, almeno in Italia tutti impazziscono per gli addominali di Cristiano, Francesco credo che fuori dall'ambiente di pallanuoto, anche per com'è lui, è quasi invisibile e quello è un peccato, perché pensi la differenza con Ivan Zeiss, che è un beniamino molto fuori dai palassetti anche? Beh sì, come ti ho detto prima, loro hanno notevolmente visibilità superiore alla nostra, quindi è molto più facile anche per le persone, sai che anche distrattamente vedono la televisione e quindi vedono anche il personaggio come Ivan Zeiss o Cristiano Ronaldo ripetutamente e poi riescono anche a riconoscere nella vita normale, ma nella vita quotidiana magari sai se uno è un pochettino esperto di sport riesce anche a riconoscerci, però poi dopo, se dovessimo andare in giro andiamo in giro molto normalmente, senza nessun tipo di problema, non saremmo fermati dalla calca come avviene per esempio per i calciatori, quindi sì, è questo il vero fattore. Marco, vedo che di Tarquinia, quindi Laziale, voglio andare a vedere, porti pazienza perché… No, io sono da Civitavecchia, attenzione, ci sono solo una data a Tarquinia. Ah, pardon, perfetto, perfetto. Beh, ci sarei arrivato a Civitavecchia. Beh, glielo chiedo qua, via. Mi hanno indicato in più Civitavecchia come il pubblico più caldo, cioè non lei sa perché ci hanno visti solo una volta. Io ormai di professione faccio il narratore di costume, avrebbe detto Franco Scoglio, Ad Minchiam, si ricorda l'allenatore di calcio, cioè così a casaccio, a sentimento, direbbe mia moglie. Ecco, e cerco quel tipo di emozione. Per esempio, sono stato alla Final Four di Coppa Italia di Volley, quasi mi sono messo a piangere in un video perché ero nel cuore di quella che io definisco, credo a buon diritto, la miglior tifoseria d'Italia, ovvero Perugia Volley, sono i sirmaniaci. Tamburi, pensi che c'era una ragazzina che a me dichiarava 11, agli altri 14 anni aveva il megafono, faceva come dire il sesto capo ultras, ma era proprio l'idea, no? Cosa mi sono perso? A parte che Civitavecchia non è più una uno da un po', ma se X anni fa fossi venuto a vedere, che so, una semifinale, se ci sono arrivati di Scudetto, crede che mi sarei commosso? Beh, sicuramente se il pubblico Civitavecchia si è sempre dimostrato grande affetto verso la Palannuoto, perché già nel post-guerra si iniziava a giocare a Palannuoto nel Porto, quindi ha dimostrato di crescere sia a livello cittadino, ma anche a livello nazionale. Ha ottenuto grandi risultati e quindi anche le persone si sono sempre appassionate di questo sport e hanno sempre dimostrato. Io mi ricordo quando ero più piccolo i vari play-off di A2 e di A1 o le grandi partite di A1 per cercare di ottenere la salvezza, c'era un grande affiatamento tra il pubblico e il giocatore e quindi c'era voglia anche di andare a vedere la Palannuoto e soprattutto i grandi cappioni. Marco De Lungo, ma parla da lì? È in questo paese adesso? No, no, io sono a Brescia. Ah, a Brescia, quindi è rimasto qui in questo periodo. Invece Marco, raccontavo in lungo, mi dia, ecco con Paolo Malara, l'ExCT, sostiene, io ho una teoria singolare, domani, adesso sono le 23.10, domani lei non sarebbe in condizione, lei e i suoi colleghi. Non sareste in condizione di fare anche solo una partita secca, scudetto senza preavviso? Mi spiego. Paolo dice, l'ExCT dice, la Palannuoto è a rischio di infortuni, se tu stai fermo, fai poco, è vero che ti alleni a casa tutto quello che vogliamo, però c'è bisogno per una ripresa vera, sicura e verosimile, c'è bisogno di un mese e mezzo. Io sostengo una cosa diversa, se un po' tutti avete allentato tutto quanto, gli allenamenti, si gioca a un livello psicofisico molto, molto inferiore, è una partita, come dire, in qualche modo dal sapore amichevole, sì, ci può essere il rischio di infortuni, anzi mi fido, debbo fare un passo indietro e prendere per buono quello che dice Paolo, però non avrebbe senso il mio discorso, Marco, dico domani, potrei dire una settimana, però questo discorso di la Palannuoto e lo sport che perde di più con uno stop di tre mesi, è proprio matematico, non meno di un mese e mezzo di preparazione vera? Sì, sì, è proprio vero perché ci sono dati alla mano di studi scientifici dove in media dopo la quarta, sesta settimana si perde quasi il 30% della forma fisica, noi già siamo quasi all'undicesima, siamo ben scesi oltre la soglia del 50% e per riprendere a pieno tutte quante articolazioni, per rifare tutto quanto una muscolatura adeguata, quindi per fare una giusta preparazione per una partita, ci vuole veramente un mese e mezzo, due quasi, e ci vuole assai tempo perché il nostro sport coinvolge tutto il corpo, quindi bisogna allenare metodicamente tutto il corpo, a partire dalle gambe agli arti superiori, quindi ci vuole tempo e ci vuole pazienza perché io faccio il confronto dal calcio, magari uno fa un circuito di corsa è differente da uno spostare una colonna d'acqua, quindi è molto più complicato e molto più lungo come preparazione. Marco Dellungo, ho chiesto a Panerai, ma era molto tardi, insomma lo completerò, Umberto Panerai uno dei portieri mito e poi farò anche gli altri, ma lei sa che si dice nel calcio i portieri sono matti, inteso le uscite estemporanei anche fuori dal campo e così anche nella pallanuoto o molto meno. Visivamente mi pare distante dal Walter Zenga di quando io ero ragazzino, cioè Walter Zenga, se ricordo bene, a 26 anni o qualcosa del genere era conduttore di un programma tv ospite fisso, c'erano Fabio Fazio su Odeon, Cristina Parodi e lui e comunque Stefano Tacconi, la guasconeria. Chi è il più guascone tra i portieri nella storia della pallanuoto, Marco? Lei? Lei è escluso in un'intervista che è la noia come la mia? No, 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 io cerco sempre di mantenere un profilo corretto perché il portiere è molto stimolato a livello psicologico durante una partita e quindi quando inizia ad avere delle esternazioni inizia anche a perdere un po' il binario della partita, della concentrazione, quindi cerco di evitare, anzi utilizzo perché anche io a volte ne vado con la testa. In queste situazioni ci sono per esempio adesso il portiere ungherese Nagy che ha delle notevoli espressioni contro l'avversario. A livello italiano poco e niente, non mi ricordo di italiano soprattutto che ha queste esternazioni. Per esempio c'è anche il portiere spagnolo che incita l'avversario a fare di meglio, però secondo me ha un comportamento nettamente sbagliato e non corretto. Bisogna sempre mantenere un profilo giusto, sì esultare ma non inveire contro un avversario. però Marco io mi riferivo anche soprattutto al fuori dal campo, non a caso parlavo dello zenga televisivo a metà anni 80, dico non c'è un'esternazione, le faccio un esempio pertinente. Ivan Zaitsev scientificamente anche magari quando non vince o quando non gioca bene si leva la maglia e si leva la maglia per alimentare il suo personaggio, cioè quel tipo di fisicità cattura i fotografi da tv, i personaggi, non parliamo del pubblico. Certo alla finale, alle finali Final Six di Torino c'erano, non ricordo, ero là 15.000 persone in altri ambiti di meno. Però proprio la ricerca dell'impatto, dell'extracampo non ce l'avete voi? No assolutamente no perché il mondo della paronnoto ammette soltanto un comportamento corretto, quindi non possiamo per esempio toglierci la calottina e buttarla per terra. È contro anche il regolamento, bisogna sempre mantenere un profilo corretto dall'inizio alla fine. Invece Marco Dellungo, io questo flash Stefano Tempesti che vedo le partite della nazionale, vedevo insomma soprattutto quando dovevo scrivere o quando ho tempo, piazza la parata e poi si vede proprio questa concentrazione, un attimo di soddisfazione riparte e sembra dire agli altri sei dai ok ripartiamo, ripartite, dai questa l'ho presa, adesso giriamo la partita. L'impressione era capitano, non capitano nemmeno lo so, ma di un leader tra i pali. Al di là delle parate, poi la sera della sconfitta in quella Champions League, io sono tornato a Reggio due anni fa per il campionato italiano primavera, mi pare che qualcosina abbia lasciato andare proprio lui. Come dire Marco, ha lo stesso impatto sull'acqua, è un leader, 30 anni sono l'età della maturità anche per un portiere, no? Sì, 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 certamente i 30 anni sono nel pieno della maturità, nel pieno secondo me anche dell'esperienza che un portiere può avere. Stefano ha sempre dimostrato di essere uno dei migliori portieri sia a livello nazionale anche internazionale. Anche quest'anno, approdando all'Orticcio, ha dato un notevole contributo alla squadra e alzando il livello di tutti quanti. Invece, Marco, mi aiuta a ricordare i più longevi nella storia? Adesso andrò a vedermi Raldo Pizzo, mentre parliamo, e so che è stato tra i giocatori di movimento il veterano, vado a vedermi l'età. Invece, Stefano Tempesti, può battere ogni record per chi sta tra i pali? Beh, sicuramente l'ha vinto a livello di Palmares, perché uno come lui ha vinto 11 scudetti di fila, penso 4 Champions League, una Lega Triatrica, 10 Coppa Italia, quindi un mondiale, una medaglia d'argento, una medaglia di bronzo a livello olimpico, campione del mondo, medaglia d'argento a livello europeo, quindi è veramente difficile da battere, ci sono tanti. Raldo Pizzo, ho trovato, è smise a 44 anni, che per un giocatore di movimento è qualcosa di assolutamente incredibile, vediamo. Erano anche altri tempi. No, infatti, infatti, non vorrei che fosse un dato sbagliato, perché da un'altra parte vedo, no, ma direi che è un dato corretto. Stefano Tempesti, è del 79, vado a controllare. Sì, è del 79, lo posso confermare, quindi ha 41 anni. 41 anni, l'obiettivo naturalmente è l'Olimpiade, adesso mi vado a vedere, sarebbe la quinta per Stefano? Sì, lui ha iniziato da Sidney, Sidney, Antonio Pechino, Londra, Rick Sest. Sarebbe la festa? Beh, è fantastico. E di cui, adesso vado a vedere, di cui, da titolare tutte? No, da titolare ha iniziato dal 2004, perché lui fu il successore di Attolico. Ah, certo, vedo qua, infatti. Quindi ne ha fatte quattro da titolare e nella prossima il titolare dovrei averlo di fronte, vero? In teoria. Ma il cambio c'è stato, mi aiuti, perché qui ci sono solo, magari, le medagliate, mi dico un secondo che sto guardando i europei. Il cambio c'è stato in quell'europeo, quell'europeo del gol non gol, che io, scrisi, pensi, la finale la feci dalla macchina, ero ospita, adesso non ricordo. Ero davanti a Sky, mi fermai in macchina. Ecco, c'era già Marco Dellungo da titolare? Sì, 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 ero europeo. Quindi fu l'europeo del 18, dico bene? Sì, sì. E quindi è dagli europei del 18 o era già da prima? No, era già da prima, perché già dalle Olimpiadi di Rio Stefano rientrò dall'operazione all'occhio, all'infortunio all'occhio, che lo costrinse a stare molto tempo lontano dall'acqua. Lui fece una preparazione molto più corta rispetto a noi, però era sempre presente, era sempre Stefano quello che è oggi ed è quello che io magari non ero quel Marco Dellungo che potete vedere adesso. e ho avuto però anche modo di giocare, di dimostrare il mio valore. Per esempio, metto il campo, faccio la partita, gli ultimi due tempi io contro la Spagna e i primi tempi ha giocato Stefano con la Francia. Anche lì c'è stata una successione, ci sono stati dei cambi. Ma al mondiale ultimo, che io non ho seguito perché stavo a Budapest per i mondiali di scherma, e quindi poi non dovevo scrivere, insomma, l'ha giocato interamente Marco? Sì, sì, sì. Tutto, tutto, non è mai entrato Tempesti, ma c'era in rosa, sì? No, Stefano non c'è più dal 2017. Ah, pardon, pardon, pardon. Quindi la sua sfida è per la Sesta Olimpiade, ma di fatto in questo periodo, mi fa appertire che guardo, il tredicesimo era Nicosia, no? Sì. Ok, pardon. E poi Budapest 2017, Volarevic? No, lì c'era lui, lì c'era Stefano, perché io purtroppo mi ammalai di morbillo. Ah, era uno dei, beh, ricordo la storia, curiosa. Arrivammo da un bel percorso che vincemmo anche l'argento della World League, però il giorno prima di partire mi ammalai di morbillo. Se no avrebbe giocato lei Marco? Sì, sì, eravamo io e Volarevic, i portieri, quelli titolari, e l'allenatore campagna è stato costretto a richiamare Stefano per giocare. Eh, mi era sfuggito, sta seguendo di meno le partite, vabbè, ame. Ah, quindi, beh, è una bella sfida quella di Stefano, nel senso che di fatto sei fuori da tre anni, ma tra l'altro il fatto che si giochi un anno dopo, per lui è un ulteriore handicap oppure, ma immagino che Stefano abbia come traguardo minimo e forse massimo quello di fare il tredicesimo, no? Quanti vanno? 12 all'Olimpiade, mi aiuti. Sì, invece sono stati notevoli cambiamenti per l'Olimpiade di Tokyo, si era pensato di ridurre la rosa fino ad 11. Ah, addirittura? Sì, con due sostituti, però tutto il mondo palanotistico si è rivoltato contro questa decisione. E quindi almeno 12? Adesso sono 12, però comunque un portiere, no, due portieri sempre, scusami. Però il problema è anche che questi giocatori non possono, non sono aggregati al gruppo all'interno del Villaggio Olimpico, ma sono esterni. Un po' di problemi ci sono stati. Però è strano in una città come Tokyo. Avrei capito, Marco, un discorso di economia. Pensi che, devo fare mente locale, ma io sono di Reggio Emilia, un atleta che forse nemmeno ricorda, lei è Andrea Giacconi, era uno specialista dei 110 ostacoli. Beh, insomma, erano anni in cui la federazione aveva un discorso di budget e lui, pur avendo i minimi, insomma, si chiedeva sempre di più per non portare troppi giocatori. Addirittura, io pensavo, magari in tribuna qualcuno, addirittura fuori dal Villaggio Olimpico. E' curioso, in una metropoli come Tokyo, è una prospettiva singolare. Beh, queste non sono decisioni che provengono dal governo giapponese, ma provengono proprio dal CIO. Quindi sono dei regolamenti che cercano da fare per invogliare la gente a vedere pala a moto, ma il fatto stesso è che la pala a moto è prettamente uno sport europeo. Quindi ci sono soltanto altre nazioni come America, Brasile, Giappone, Australia, che hanno dei livelli molto alti per competere a livello internazionale. Quindi il CIO ha fatto delle regole, secondo me, che potessero inglobare anche altre nazioni, ma alla fine non sarà mai così.